A chi assomiglia Haaland? Se lo chiedono in molti, ma non è facile dare una risposta. Il tempo ha cambiato l'altezza e il fisico dei giocatori, soprattutto di attaccanti e difensori. A volte Haaland segna gol che assomigliano molto a quelli di Boninsegna o Inzaghi, cioè gol brevi dentro l'area piccola. Altre volte segna da gran colpitore come Gigi Riva o Ibrahimovic. Ma le due caratteristiche davvero stupefacenti sono la precocità e la facilità con cui questo ragazzo di 19 anni segna dovunque. Alla sua età Cristiano Ronaldo aveva segnato 5 reti in Premier nello United, Inzaghi giocava ancora nell'F. Solo Ronaldo il fenomeno era già pieno di gol nel PSV. Ma una varietà di potenze e velocità come quelle di Haaland sono molto rare. Ogni grande centravanti ha avuto in dosi forti o l'una o l'altra caratteristica. Forse l'idea migliore è Nordal, ma chi se lo ricorda più?